Ok, allora, ciao a tutti e bentornati al mio canale, oggi parliamo di Bandit di Robert Piguet. Allora, questo profumo è spaziale, proprio è spaziale. E' un profumo del 1944, io non sono informato su questo brand, non conosco il concetto che sta dietro la formulazione di questa fragranza, quindi se siete, se sarete appunto interessati alla fragranza e alla descrizione vi farò poi tutti i dettagli e magari ve li andrete a vedere, comunque adesso vi scrivo com'è e quello che mi trasmette. Allora, questo profumo, questo è il secondo campioncino che io ordino, da notino, perché il primo l'avevo preso mesi e mesi fa e però purtroppo dopo, boh, mi pare 3-4 giorni che ce l'avevo, il cane mi se l'ha mangiato, quindi proprio letteralmente, cioè l'ho ritrovato completamente distrutto e senza più profumo, quindi il cane mi se l'aveva mangiato. Probabilmente aveva sentito questo sentore animali con giro per casa e ha voluto provarlo anche lui. Comunque perché? Perché questo profumo contiene note animali, è un profumo legnoso appunto, animale, terroso, verde, cogliato e aromatico e mi aveva molto incuriosito tempo fa quando lo provai appunto per la prima volta, quel poco che ho potuto provare perché mi incuriosiva questo sentore cogliato e molto animalico, dei profumi vintage, era il periodo appunto in cui mi stavo approcciando alla profumeria artistica e alla profumeria vintage soprattutto e quindi questo spiccò nelle recensioni, veniva spesso nominato, no? Menzionato come un profumo importante della profumeria vintage e di nicchia perché era un profumo con una nota cogliata molto forte, un profumo molto animalico quindi io dico ah questo lo devo provare e infatti mi rimase molto impresso, l'ho voluto riprendere apposta al campioncino perché era un profumo eccezionale, questo veramente è eccezionale io è veramente eccezionale, guarda, veramente dovete provarlo, ovviamente è un profumo molto molto forte, non è, allora, per dire, no? questo qui è subversive, subversive, non lo so, di pre-court, è un profumo con la nota di cuoio, quindi qui la nota di cuoio è Robert Piguet, e in banditi di Robert Piguet spicca molto, e qui questa in break-court, subversive, la nota di cuoio è una nota predominante, però qui è addolcita dal figo, dalla nota del figo quindi, la nota di cuoio di questo non è come la nota di cuoio di questo, così come, che ne so, la nota di cuoio del Rien, di Talibre d'Orange, non è come la nota di cuoio di banditi Robert Piguet quindi, di puoiatino sentiti un po', ma banditi Robert Piguet a me sa proprio di pelle viva, cioè proprio di cuoio vivo, di animale vivo non so qual è la nota, o qual è l'accordo preciso che mi trasmette quest'idea, però mi sa proprio di un profumo vivo, cioè proprio una seconda pelle proprio così, e infatti non lo intendo nemmeno tanto come profumo ecco, già per esempio questo è più profumo, perché è più fruttato, c'è un cuoio, è sempre di nicchia, però è più fruttato, è più profumo anche il Rien è più profumo, è più incensato, cioè insomma si sente più che un profumo, invece questo lo percepisco proprio come seconda pelle proprio, è una cosa meravigliosa, veramente una cosa meravigliosa adesso vi leggo la piramide olfattiva, è un profumo appunto del 1944, concepito per la donna, ma secondo me è proprio unisex al 100% soprattutto oggi, soprattutto oggi è più un unisex, proprio perché appunto i cuoiati li vediamo molto bene su un uomo comunque, profumo meraviglioso, che ha una piramide olfattiva molto composita ovviamente come tutti i vintage di quegli anni lì, come un macenoir, come... anzi a proposito ringrazio Matilda Morri che se me stai a guardare ringrazio, perché con la sua recensione di alcuni profumi sensuali che ha fatto cioè una recensione di profumi sensuali, dopo ve la metto, se mai dovesse riuscire a fare sta cosa vi metterò in descrizione il link del suo video e ha descritto tanti profumi fighissimi che lei ha, tra cui l'aromatics alisir di Clinique che io non l'avevo mai sentito sinceramente, perché l'avevo visto nei scaffalotti, dei scaffali, dei commercialotti e quindi non l'ho mai provato invece ieri l'ho testato, dopo la sua recensione è fantastico, è veramente un profumo buonissimo veramente, veramente ottimo tra l'altro io provo l'eau de toilette, ha una persistenza molto buona quindi immagino che l'eau de parfum sia ancora più invasivo e ancora più imponente comunque bellissimo quel profumo ecco, come tutti i profumi vintage, come può essere, che ne so un Grey, Cabochard di Grey, oppure appunto il Macenoir o Paloma Vicasso che comunque ho visto che hanno tutti una piramide olfattiva molto composita molto piena quindi quello che nasce fuori è un calderone ma quello che nasce fuori appunto è un odore unico e in questo caso quello che sento è proprio l'odore di una seconda pelle adesso vi spiego bene in testa abbiamo Aldeidi, Cardenia, Arancia, Calbano, Artemisia, Neroli, Langhi Langhe e Bergamotto in cuore, Carofano, Radice di Violetta, Gelsovino, Rosa e Tuberosa e in base cuoio, Ambra, Paciuli, Muschio, Cocco, Zibetto, Muschio di Quercia vedete, Mirra allora io in apertura ma proprio all'istante cioè proprio si tratta proprio di secondi probabilmente sento qualche nota cromata sarà il nero, il bergamotto ma è tutto molto sporco, è tutto molto retro quindi poi si passa nel cuore in cui probabilmente l'uniche due note che percepisco sono la Rosa e la Tuberosa ma sono due note fiorite sporche proprio schenchi, proprio funky proprio sono due note proprio, ecco, proprio hippie sono due note fiorite proprio un po' ad esempio un po' appunto schenchi e sporche da questo fondo che comunque fa il profumo ed è un fondo animale c'è appunto il cuoio il Paciuli che è una nota appunto molto del Rosa l'Ambra, il Muschio, il Cocco, lo Zibetto quello che sento di più io sicuramente è il cuoio il cuoio però non credo sia quella la nota che me lo fa percepire proprio come una pelle viva come un cuoio vivo ed è la nota di Cocco e Zibetto secondo me cioè l'unione di Cocco e Zibetto insieme alla Mirra cioè queste quattro note insieme cuoio, Zibetto, Cocco e Mirra mi rendono, cioè mi fanno sentire questo profumo come proprio una pelle cioè come proprio una pelle viva non nemmeno sudata ma proprio viva cioè mi immagino proprio non lo so è proprio una seconda pelle questo profumo ce l'ho sia qua, me lo sono spruzzato tipo due ore fa e qua me lo sono rispruzzato poco fa stupendo veramente stupendo animalico, profondo, intenso io bandì probabilmente il nome ma a me sinceramente pesa più più che De Bandita o De Bandito pesa proprio tipo De Orgia Fetish proprio ma veramente cioè è uno di quei profumi che parla ragazzi è uno di quei profumi che esprime è uno di quei profumi che comunica qua a me sa proprio un alto livello proprio un importante livello di self confidence cioè chi indossa questo profumo è perché sa che lo vuole indossare sa che ha una certa consapevolezza sa che ha anche una certa sicurezza di sé cioè non so una patronanza del sé estremamente alta cioè non è appunto un profumo come questo che sia un cogliato però addolcito e diciamo smorzato dalla nota fruttata del figo per esempio lo rende molto più portabile invece De Bandito di Robert Piguet è un odore e quindi ecco a me sa proprio di sì di incontro fetish di quelli che si vestono proprio tipo con tutti de cuoio tutti di pelle scura ecco me sa me sa di quella cosa lì insomma via senza troppi giri di parole me sa proprio di quello più che del bandito ecco o del bandito questo è un profumo concepito per la donna secondo me ovviamente anzi ai canoni a cui siamo abituati oggi sarebbe anche meglio su un uomo probabilmente una donna è tosto però era un profumo che negli anni 40 negli anni 50 portavano principalmente ecco le donne è un profumo concettuale sicuramente è un profumo che non so però trasmette completamente un'idea diversa da quella e cioè oggi una donna una ragazza o una donna che va in profumeria e crede di voler trasmettere qualcosa e crede di voler di non voler passare inosservata mettendosi sopra qualsiasi profumo commerciale che gli capita sotto naso se sbaglia purtroppo ha proprio sbagliato strada cioè io per esempio ieri stavo al lavoro mi è capitato che mi è passata diciamo davanti una ragazza anche avvenente molto 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 carina e che c'aveva un profumaccio dolciastro nauseante nauseabondo mi sono girato dall'altra parte e dico mamma mia cioè come perdere tutto come perdere la personalità come acquisire proprio pochezza proprio sciapagine non so come dirlo mi dispiace qualcuna sicuramente si offenderà però però insomma ecco io penso questo non è un profumo così da poco è un profumo che va indossato con un certo tipo di consapevolezza e buonissimo un cogliato con cocco e muschio di quercia molto molto forti quello zibbetto che gli dà una carica proprio erotica e così sfacciata veramente eccezionale e poi nel cuore queste note fiorite molto sporche di rosa e tuberosa che io sento di più se lo conoscete fatemi sapere cosa ne pensate Bandi di Robert Pichet è secondo me un capolavoro che va sentito vintage ah che volevo dire non ho scordato alla prossima e alla prossima ciao